E' sempre difficile vincere due gare consecutive in casa. Spese Cessi gioca ogni tre giorni in un campionato iniziato da due settimane. E poi c'è la Coppa Italia con il Montevarchi che mercoledì 10 ottobre sarà a Forte dei Marmi con il Real Querceta. Eppure l'Aquila, confortata dal primo successo ottenuto in Serie D 2018-19 a spese del Viareggio con un doppio regoli, proverà a concedere il bis. Appuntamento domenica alle 15 al Briliperi dove arriverà il Seravezza Pozzi nella sua seconda stagione di fila nell'Inter regionale. Avversario insidioso e retuge dal 3-1 rifilato al Ghiviborgo tra gli ospiti. Andrà guardato a vista Samon Reider Rodriguez, l'attaccante cubano di Guantanamo, 30 anni il prossimo 28 ottobre, spesso decisivo per i colori verde-azzurri lucchesi. Nel turno infrasettimanale, emulando regoli, si è sbloccato con una doppietta. In casa Montevarchina però non manca la fiducia di far bene. Simone Venturi nel terzo confronto in una settimana ritroverà tra i disponibili Simone Biagi che ha scontato il turno di squalifica. In avvio, specie se sarà confermato in retroguardia a Visibelli, lo schieramento di Rossoblu non dovrebbe discostarsi molto da quello di partenza con il Viareggio. Il 99 insieme a Migliorini sarà ancora Dama De Arrasuba, pur se il trainer dei Valdarnesi tiene l'intero gruppo sulla corda e non è esclusa qualche novità legata alle quote obbligatorie. Di sicuro, ed è una nota positiva, per il sodalizio di Via Gramsci davanti alla difesa giostrerà di nuovo Francesco Amatucci, classe 2001, prodotto genuino del vivaio dell'Aquila 1902 e utilizzato da Venturi fin dalla prime amichevoli estive.